Buongiorno a tutti ragazzi di Fratellanza dell'Azzurra, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, solite raccomandazioni, iscrizione al canale, like al video, campanellina e commenti per interagire con noi. Vedo che vi piace interagire con noi. Noi rispondiamo a tutti, chiaramente chi ci offende cancelliamo perché le offese non le vogliamo, non le diamo e non le vogliamo. Allora, giornata importante per il TICUS perché avremo il risponso degli esami medici e avvicinamento a Lecce Inter. Di questo ne parliamo domani, del problema di Lecce Inter. Del risultato degli esami abbiamo Pier che è lì pronto appena avrà notizie e poi ci darà il suo punto professionale. Io vorrei affrontare un attimo un discorso degli ultimi video che sono stati fatti da me sulla situazione del finanziamento con OCTRI. Allora, prima di tutto, il mio video dove parlo della Juventus non è fare un parallelo con loro perché con loro non mi ci voglio nemmeno paragonare, già a livello sportivo. Poi figuriamoci a livello contabile con quello che hanno fatto. E di questo poi vi dico che cosa ne penso anche della potenza di Exor. Ma il mio era fare un parallelo su come la stampa trattava due notizie che erano simili perché da una parte c'è la Juventus che ha rimborsato un bond facendo un nuovo finanziamento o utilizzando linee di credito che è la stessa cosa. Dall'altra c'è Zhang che sta cercando di capire se riesce ad allungare il finanziamento piuttosto che trovare un nuovo istituto che lo finanzia. In questo c'è differenza perché la Juve fa una grande operazione finanziaria e l'Inter fallisce e invece non c'è un cazzo di differenza, anzi. Poi vi ho portato i dati di bilancio della Juve dicendo che loro perdono 90 milioni ma sono tranquilli perché c'è Exor. E scusate ragazzi, dove era Exor quando hanno falsificato i bilanci? Perché se te hai una società forte, come dicono in tanti sotto quel commento lì e arrivi a un certo punto dove te fai un'operazione molto rischiosa come quella di Ronaldo e arrivi in fondo, l'operazione ti si ritorce contro, una proprietà importante e forte non va a falsificare il bilancio, prende e sgancia la grana. Perché non l'ha fatto la Juve? Vi ricordo che lo sponsor principale della Juventus è Jeep. Sulle maglie ci hanno scritto Jeep. Jeep di chi era, guardate bene, era proprietaria? Famiglia Exor? Con FCA? Bene, perché non hanno aumentato la quota di sponsorizzazione per andare a tampinare le perdite e invece hanno fatto quella porcata? Ve lo domandate? Senza poi parlare di quello che ha fatto extra calcisti con la famiglia Agnelli che forse è la cosa più schifosa. Ma questo poi quando sarà a tempo debito vi parlerò di quello che so visto che, come ho già spiegato a qualcuno, so cose lavorando bene o male nell'orbita Fiat, chiamiamola così. Quello che vorrevo però far chiarezza e mettere altre puntine su lei, oltre a questo fatto qui, nei confronti dei tifosi juventini che vorrei capire che cosa ne dicono di questo mio ragionamento qui. Visto che loro hanno la potenza, visto che loro non hanno problemi, visto che se c'è il bond, il bond è sottoscritto alla famiglia Agnelli. Ma non è così ragazzi. E anche qui c'è una differenza fra noi e loro, perché il bond viene sottoscritto da terzi. La famiglia Zanga ha fatto un bond personale e ha messo liquidità all'interno dell'Inter come finanziamento soci, irrigilandolo poi a capitale, anche perché la famiglia Zanga deve coprire le perdite del 2020 e del 2021. Loro sono ben consapevoli e poi 2022. Quindi non stiamo parlando con deficienti, stiamo parlando con persone che piano piano stanno cercando di riequilibrare anche le situazioni dei numeri. Detto questo però, quello che a me mi premeva di dire è un'altra cosa. Ho lì visto ieri un video, mi permetto di nominarlo, di Giuseppe e degli esonerati. Ora, con Giuseppe siamo anche vicini perché io sono di Viareggio e lui è di Firenze, quindi ci si può anche trovare a mezza strada e parlare di persona, non sarebbe affatto un problema. Ma non so se lui si riferisce a me, anche se i numeri che ha snocciolato ieri a inizio video sono quelli che avevo snocciolato io nel video. Ma siccome io non sono un guru, sicuramente qualcun altro ha fatto questi numeri, non si sta riferendo a me e lo dico con la massima modestia. Però Giuseppe, ti volevo far capire una cosa, ti metto in un commento tra l'altro perché non voglio farmi pubblicità con te. Poi se mai sei te che ci fai pubblicità a noi, se vuoi, e questo se mai eventualmente grazie. Ti vorrei far capire una cosa, che il sottoscritto non è uno zanghino, uno zanghout. A me interessa la maglia, mi interessa il logo, mi interessa che l'Inter vinca, che l'Inter non debba essere sempre con le pezze al culo, come sappiamo è adesso, e che abbia una proprietà che abbia la possibilità di investire. Perché quello che ha zangh in Cina a me non me ne frega un cazzo. Che è un imprenditore che ha i soldi, secondo me, sì. Che è un imprenditore che ha i soldi bloccati in Cina, sì. Quindi la soluzione quale sarebbe? Trovare Pinco Pallino da Scandicci, così sarebbe anche vicino al nostro, gli si potrebbe andare a bussare alla porta se facesse casino, che non ti fa penare per prendere un giocatore come a Cervi per 2 milioni. Quella è innegabile, Giuseppe. Cioè ci mancherebbe. Quello che però ci tenevo a dire io era tutta l'operazione, cose che magari si dimenticano. Te dici non ci sono i 100 milioni sul conto di OCTRI, mal contati ci sono, a meno che non siano stati utilizzati per altro. Però penso che tu lo sappia bene anche te, che se viene dato un finanziamento a un'azienda con una finalità, quella finalità deve essere perseguita. OCTRI non permetterebbe mai a Zang di levare 10 milioni dal conto proprio di Grant Tower per girarle a un'altra società. Perché la finalità del finanziamento di OCTRI è quella di dare liquidità all'Inter. E qui mi rallaccio anche a un'altra questione. Il rinnovo del finanziamento, piuttosto che il prolungare la scadenza, non è risolutivo per l'Inter, sono ben d'accordo con voi. Però è quello che molto probabilmente farà la famiglia Zang. Lo fa per quale motivo? Uno, vi dico senza girare il cino intorno, stadio. Due, nuova Champions. Tre, mondiale per club. Lasciamo perdere la Superlega. Queste sono le tre cose di cui abbiamo certezza e che aumenteranno il valore dell'Inter. Quindi se loro riescono ad allungare di altri due anni il finanziamento, lo fanno per se stessi, non lo fanno per l'Inter. Siamo perfettamente d'accordo. Perché? Perché loro possono avere un pochino più di tempo per trovare il compratore loro e farsi dare i soldi che vogliono loro. Perché loro in questa maniera qui, lavorando con Marotta, hanno accresciuto il valore del brand, hanno accresciuto il valore della loro azienda e quindi possono pretendere di più. Questo è innegabile. È un po' quello che ha fatto Toir, che l'ha comprato l'Inter da Moratti, ha fatto determinate operazioni e l'ha rivenduta più soldi. Toir non era un interista. Come non lo sarà sicuramente Zang, anche se c'è da dire che il figlio si è affezionato ai nostri colori. Però in tutto questo, che cosa vi voglio dire ragazzi? Che io non sono un fotore che a Lei Yu Yu, Zang rimane e continuiamo a fare il mercato a zero. No. Perché è chiaro. Quello che vi dico io sono tre cose. Allora la prima, questa è la proprietà. E volente o nolente, questa è la proprietà. Possiamo criticarla, ma sono quelli che ci hanno comprato, ci hanno levato da essere l'ottava forza del campionato, ci hanno riportato a vincere uno scudetto, ci hanno riportato a vincere delle coppe, ci hanno riportato a due finali europei. Ci hanno portato dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti soprattutto. Quindi questo è innegabile che loro, l'operato, l'hanno fatto. Se ora loro non possono muoversi, i casi sono due. O effettivamente sanno che a breve Xi Jinping toglierà il veto degli investimenti all'estero e loro vogliono continuare a investire nell'Inter. Due, vogliono venderla loro per guadagnarci dei soldi. Cioè non c'è altre strade, è innegabile la cosa. Al di là di questo, chi è che non vorrebbe una proprietà che ti dice signor Marotta, questi sono i soldi per andare a fare mercato. E Marotta prendeva Marotta, è una persona di cui io mi fido. Perché? È venuto via dalla Juve quando ha sentito un puzzo di bruciato e quando ha visto che le operazioni non erano strutturali a livello sportivo. Un utente della Juve mi ha detto ma te come sei, ti droghi perché paragoni il City? Cioè dici che l'Inter è meglio del City del Paris Saint Germain. Non l'ho mai detto questo. Io ho detto che preferisco la progettualità interista al comprare le figurine come fanno il City e il Paris Saint Germain. Io ragazzi, una squadra non l'ho nominata. È il Real Madrid. Il Real Madrid ha sempre avuto fior fiori di campioni. Ha sempre comprato, ha sempre speso. Quest'anno ha preso Bellingham, il prossimo anno prenderà Mbappé. Cazzo, ma il Real Madrid ha vinto più di tutti in Europa. Quindi di cosa ragionate? Se io costruisco una squadra con 11 campioni che sono strutturali, ha un progetto sportivo che mi fanno vincere tutto ma ben venga una proprietà del genere. Ma ben venga. Ma a me una proprietà che va a comprare Mbappé solo perché è il miglior giocatore non me ne frega un cazzo. Perché se Mbappé non è funzionale per la mia squadra se mi va a rovinare il giocattolino che abbiamo creato negli anni col sacrificio non me ne frega un cazzo. Poi è ovvio che se al posto di Arnatovic mi fai arrivare una punta da 15 gol a stagione siamo tutti più contenti. Se al posto di Ligno Sanchez mi arriva una quarta punta con i controcazzi ma ben venga se al posto di Scrini arriva no vabbè lì è arrivato Pavaro e quindi siamo a posto. Comunque a parte le battute ragazzi e lì è la bravura del nostro dirigente. Al di là di questo cioè è questa la cosa prima viene l'Inter e avere una proprietà libera da tutti i vincoli la vorremmo tutti. Ma io quello che non voglio è quello che ti compra i giocatori tanto per perché ce l'abbiamo avuto ragazzi perché Moratti quanti cazzo di miliardi ha speso per l'Inter e non è che non si vinceva solo per Calciopoli perché non è solo per Calciopoli siamo onesti c'è anche Calciopoli ci sono anche il fallo di Giuliano c'è tante cose che ci hanno messo il bastone fra le ruote però tante volte Moratti ha speso soldi a cazzo è insindacabile la cosa quindi ragazzi la cosa fondamentale è questa l'Inter sempre e solo l'Inter avanti a tutti tutto il resto è fuffa poi gli ventini possono venire qui a offendermi dirmi quello che cazzo vogliono però vi ripeto io sono fiero di quello che è stato fatto fino a oggi dalla mia società poteva essere fatto meglio se avessimo avuto un'altra proprietà sì sarei stato più contento sì è innegabile però ragazzi questo è quello che abbiamo poi dire Zhang levati dalle palle Zhang vende cioè per carità però se a me mi deve arrivare uno come Ziliacus ragazzi mi tengo Zang perché Ziliacus che sembrava la manna per qualcuno è in galera da Singapore vicino è a Zhang non è tanto lontano Singapore Zhang tutti dicono che è in galera però se sta trattando il rinnovo con Octree forse c'è qualcosa di diverso chiudo il video dicendovi una cosa spero che siete arrivati fino a qui so che è lungo ma le cose a dire erano tante la differenza sostanziale fra prolungare con Octree e un nuovo finanziamento bisogna arrivare a capire questo allora se io rinnovo con Octree senza tirar fuori una lira quindi Octree accetta non di prendere nemmeno gli 85 milioni di interessi che deve avere che sono manna per loro come ha detto giustamente Giuseppe ma dice ok ti riallungo la scadenza di due anni invece che 85 me ne dai 120 e oggi non mi dai un cazzo a me ben venga questa cosa qui piuttosto che un nuovo finanziamento perché se il nuovo finanziamento rimane un polmoncino di liquidità bene ma se io devo come vi ho detto io per contenere costi l'eccedenza di liquidità che ho sul conto di Octree lo metto lì abbasso la quota e rifinanzo questo con un'altra società che vuol dire vuol dire che anche quegli 50, 70, 80 milioni che sono lì e potrebbero essere immessi nell'Inter per ridare liquidità all'Inter vengono bruciati allora in quel caso lì sì che l'operazione potrebbe essere non positiva per l'Inter se invece c'è questa possibilità di prolungare e magari dico magari Zhang sa che come è stato fatto per Lion Rock i soldi degli interessi li può levare dai propri fondi in Cina allora a quel punto lì rimaniamo sempre con quel polmone che può essere utile all'Inter e quindi mi può andar bene con l'operazione il resto sinceramente ve lo dico non l'ho detto nell'altro video è un'operazione che ha un autogol clamoroso detto questo ragazzi aspettiamo il risultato dell'esame del TICUS e come diciamo sempre noi c'è solo una cosa che conta l'Inter forza Inter grazie a tutti